hi guys ecco qui siamo sul tetto del nuovissimo 50 calò piazza della repubblica napoli che cosa che operazione stiamo facendo stiamo recuperando intubando incamiciando una vecchia canna fumaria presente all'interno della struttura del fabbricato naturalmente come sta canna fumaria ha delle curve insomma aveva delle impedenze di sostruzioni abbiamo intubato con questa guaina termoindurente che cos'è la guaina termoindurente un sistema tipo non so uno stent per le vene per capirci un sistema molto molto innovativo che permette di non rompere all'interno della struttura del fabbricato naturalmente un fabbricato del genere anche mettere un chiodo è un problema quindi questo qua è un intervento assolutamente non invasivo e con da una garanzia dal costruttore di oltre 50 anni non è poca roba ragazzi